partiti cavalli del premio at talag Buridan si propone di fare andatura nei confronti di Holy Time, quindi Canning che viaggia al suo esterno per corsie interne c'è Urus quindi Regal Vega Melo Black a chiudere si va verso l'imbocco della piegata con le posizioni che non cambiano Buridan a mantenere la leadership nei confronti di Holy Time che non lo perde di vista quindi in terza posizione per corsie interne muove Canning ancora Regal Vega Urus che si mantiene lungo l'accordo Melo Black che aggancia il gruppo si completa così la piegata e quindi si affronta la retta di arrivo lungo la corda Buridan in evidenza sotto la pressione di Holy Time che si presenta molto bene dal centro della pista preparando l'attacco in terza posizione in corda c'è Urus a largo prova a guadagnare Melo Black quindi perde posizioni Canning Regal Vega siamo a metà della retta di arrivo con Buridan che allunga ci prova Urus quindi Holy Time che perde a largo c'è Melo Black Buridan fa tutto bene da un capo all'altro ritorna al successo e viene appunto a vincere in questa condizionata con Antonino Cannella in sella e al training quindi Buridan che batte l'ottimo Urus quindi che precede precede sul podio Melo Black che dall'esterno prende la terza moneta a sfavore di Holy Time partiti cavalli del premio Glorian d'Ivory Rose Zar con Pivo Ass all'interno lungo la corda c'è The Queen Matilde nel cuore del gruppo Filmet che è a fianco Donna di Stelle quindi Elmus My Chef che chiude il gruppo si affronta l'ultimo tratto della retta opposta all'arrivo vediamo dall'immagine della ripresa del centrale Rose Zar adesso viene sopra avanzata da Donna di Stelle quindi che si propone in testa al gruppo Rose Zar all'inseguimento terza a largo c'è Pivo Ass quindi The Queen Matilde che perde posizione ma rimane allo steccato quindi Words of Love con Filmet che rimane nel cuore del gruppo chiude il gruppo Elmus all'argo My Chef cavalli che affrontano la retta di arrivo con Donna di Stelle attaccata dall'interno da Rose Zar che adesso tende a passare si presenta molto bene all'argo anche Words of Love che ha il suo interno Pivo Ass Filmet che prova a inserirsi per la lotta 4 cavalli in linea quando siamo a metà della retta d'arrivo dall'esterno Words of Love che cerca di accelerare non ci sta Filmet quindi bene anche Pivo Ass nel tratto conclusivo Words of Love che batte Filmet e Pivo Ass che giungono vicini sul traguardo per cui adesso rivedremo un attimo le immagini proprio le ultime immagini ecco dal largo quindi Words of Love che accelera attacca e passa definitivamente Filmet quindi si inserisce molto bene per la piazza Pivo Ass e vediamo proprio l'ultimo tratto con Words of Love in chiara evidenza mentre come presumevo probabilmente Filmet riesce a prevalere nei confronti di Pivo Ass per la seconda e la terza moneta schieramento completato partiti cavalli del premio Lattanzio Gambara Osho dall'interno prova a mettersi subito in evidenza nei confronti di Dream My Love quindi Don't Stop Dancing lungo lo steccato c'è Zakira Final Battle Thundernoth che muove dall'esterno quindi Brigant Ecam che cerca di recuperare qualcosa per sé in partenza quindi quindi latte e caffè wait to Epson Troville gruppo chiuso da Don't Stop Dancing cavalli che vanno ad affrontare la metà della piegata con Osho con Osho in buona evidenza sotto la pressione dall'interno del grigio Dream My Love quindi percorsi interne filtra Thunder North dal centro della pista si presenta Brigant Ecam quindi ancora Don't Stop Dancing via gli altri siamo ancora a traguardo lontano con Osho sempre più sotto la minaccia di Dream My Love che prepara l'attacco quindi Don't Stop Dancing che cerca di recuperare Brigant Ecam quindi c'è Zakira all'esterno viaggia molto bene My Fly siamo nel tratto conclusivo con un testa a testa tra Osho e Dream My Love Osho e Dream My Love vicini sul traguardo ma sembrerebbe sembrerebbe Osho ad averla spuntata nei confronti dell'ottimo Dream My Love da una buona prestazione dopo un NPR rientro Dream My Love quindi rivediamo adesso le ultime gli ultimi metri di gara quindi un testa a testa tra Osho dall'interno dall'esterno c'è il grigio Dream My Love ecco rivediamo le ultime battute testa a testa vibrante con Osho che probabilmente ovviamente dobbiamo attendere conferma da parte del giudice d'arrivo fuori letto è tutto pronto partiti i cavalli del premio Asakab Black Magic Woman in evidenza al suo esterno viaggia Mockingjay quindi in terza posizione percorsi interne c'è Sopramidnight che è al suo interno Blah quindi all'esterno di tutti problemi per Creed che si ferma proseguiamo e torniamo in cronaca quindi i cavalli che affrontano la prima piegata quindi con Black Magic Woman imporre il suo ritmo nei confronti di Tannius quindi Blah in terza posizione scusate di Mockingjay quindi Blah in terza corsia percorsia interna Sopramidnight filtra all'interno all'esterno c'è Tannius quindi Rebellion e Miau Miau cavalli che affrontano l'ultima parte dell'aretto apposta all'arrivo con le posizioni che non cambiano Black Magic Woman che continua a mantenere una leggera evidenza nei confronti di Mockingjay che non la perde di vista quindi in terza posizione lungo la corda c'è Black Magic Woman con ai suoi fianchi Tannius quindi Miau Miau che prova a guadagnare dall'esterno Rebellion che chiude il gruppo si completa anche la seconda piegata ci si affaccia in retta di arrivo lungo la corda Black Magic Woman sotto la minaccia di Mockingjay dal centro della pista avanza molto bene la novità francese di Casa Cuscheri Blè a largo c'è lo scatto di Miao Miao prova a inserirsi alla lotta anche Tannius siamo ai 150 dal traguardo passa passa Miao Miao c'è lotta solo per la migliore piazza con Tannius che riesce a prevalere nei confronti di sopra Midnight e quindi Miao Miao ancora al versaglio Miao Miao non delude non smentisce le aspettative è proprio ai 200 metri dal traguardo passa in vantaggio si allunga e viene a vincere in maniera agevole rilancia la rimonta Tannius ma deve accontentarsi della buona seconda moneta invece per il terzo giunge Sopran Midnight e Bluair Miao Miao Giuffrida Martina ai colori Antonio De Luca al training si può andare agli ordini dello starter partiti cavalli del premio Alan Ford Cicalocca è la più veloce si presenta in evidenza quindi in seconda posizione percorsi interne Viscount Barfield My Man in corda a largo c'è Principe Serebi nel cuore del gruppo Bright Star che ha in scia Shenik Root e chiudere Amore Fatato si affronta l'imbocco della piegata dall'esterno in leggera evidenza Cicaloca sempre sotto la minaccia di Viscount Barfield si avvicina prepotentemente dall'esterno anche Principe Serebi perde qualche posizione My Man in corda Shenik Root quindi Bright Star e a largo chiude il gruppo Amore Fatato si presenta l'ingresso in retta di arriva Viscount Barfield che tende a passare ma deve subire la minaccia di Principe Serebi che si presenta molto bene tra i due si inserisce Cicaloca la lotta si unisce anche Shenik Root siamo a metà della retta d'arrivo con Cicaloca che è passata Principe Serebi che non vuole demordere ci prova Viscount Barfield dall'altro c'è Bright Star e nel finale Cicaloca respinge Principe Serebi quindi Bright Star e Shenik Root vicini sul traguardo Cicaloca Cicaloca quindi che ritorna al successo ecco rivediamo gli ultimi metri di gara scappa Cicaloca non ci sta Principe Serebi che rilancia da rimonta ma Cicaloca viene a concludere nel migliore dei modi respingendo la favorita Principe Serebi vediamo scorrere le immagini per capire chi va alla terza moneta sembrerebbe a Bright Star Partiti cavalli dell'ultima prova dal Mediterraneo parte il leggero ritardo Domestic Heart che adesso cerca di recuperare davanti ci va il grigio Arab Gold in seconda posizione viaggiano appaiati Arab scusate Raidman e Mu Magic quindi all'esterno c'è Sensazione poi che ha i suoi fianchi Domestic e Art quindi Cuore del Grago a chiudere il gruppo Full Time si completa la prima piegata con Cuore del Grago in vantaggio scusate con Arab Gold che si mantiene in vantaggio in seconda posizione c'è Raidman che si mantiene lungo lo steccato all'interno Cuore del Grago che è all'esterno a Domestic Heart quindi ancora Mu Magic Sensazione poi chiude il gruppo sempre Full Time ritmo imposto da Arab Gold quando i cavalli vanno ad ultimare la retta opposta all'arrivo con in seconda posizione Domestic Heart che recupera molto bene dalle retrovie adesso va a minacciare il Battistrada terza in corda rimane Raidman quindi avanza Special Hands perde qualche posizione invece Cuore del Grago che è all'esterno a Prisoner of Love gruppo ben compatto quando si presenta la retta di arrivo dal centro della pista si presenta molto bene Special Hands prova a ritornare quindi ad attaccarlo dal largo Arab Gold Raidman che cerca di inserirsi per la quota intanto avanza e cerca di guadagnare sensazione poi siamo a metà della retta d'arrivo con Special Hands che è passata con sensazione poi che rilancia la rimonta Arab Gold che ci prova dall'esterno ma Special Hands che ritorna ritorna molto bene da novembre quando appunto vi dicevo aveva già un secondo posto su 1800 metri a vendere si ripresenta in ottima condizione con 53 kg e mezzo e Marcello Belli in sella ritorna e viene a vincere viene a vincere in maniera abbastanza netta quindi ci ha provato lo Specialista sensazione poi ma deve accontentarsi della migliore piazza mentre il Battistrada Arab Gold si sistema per la terza moneta quarto giunge Raidman Marcello Belli in sella doppio in giornata per Marcello Belli mentre tristi successi per l'allenatore Vincenzo Caruso i colori sono in questo caso del signor Giuseppe D'Amico 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 Grazie a tutti.